Sì, finalmente è arrivato il gol dopo domenica, ho svelato quattro volte, avevo grande voglia, grande determinazione questa sera, come tutta la squadra d'altronde, di trovare il gol, di trovare la vittoria. È stato un grande bario, oggi avete davvero messo sotto la Sampdoria? Oggi secondo me è una delle partite migliori che abbiamo fatto, l'inizio del campionato, anche perché la Sampdoria era quarta in classifica, quindi dobbiamo pensare anche a questo. Siamo partiti benissimo, abbiamo concluso benissimo, dobbiamo rimproverare solo sull'occasione del gol loro, per il resto è una partita perfetta direi. Però ti chiedo a chi dedichi questo gol? No, nessuna dedica a particolare, se non ai tifosi, loro sì che ci sostengono sempre, soprattutto in scelta e sono contento di giocare per questa squadra. Mi sono tolto un piccolo peso questa sera, domenica veramente non credevo ai miei occhi, nel senso che quando ci sono questi periodi per gli attaccanti sembra che la Palma non voglia mai entrare. Questa sera finalmente è arrivato, ma condito soprattutto da una grande prestazione della squadra, questo è quello che ha fatto piacere.